Non avvicinarti troppo a quella cosa. Ho le allucinazioni! Aspetta, cos'è stato? Non avvicinarti. Grazie. Vediamo di cosa hanno così paura. Fatto. Altre macchine per l'override. Grazie. Attenzione! 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 Ha scatenato le macchie! Attenzione! Ha scatenato le macchie! Attenzione! Attenzione! Guardate! Attenzione! Grazie a tutti. 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 Passiamo alle maniere forti. Grazie a tutti. 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 È pesante. E colpisce forte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È andata da quella parte. Grazie a tutti. 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 Dovrei abbandonare qualcos'altro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.